No, per carità, semmai io suggerirei di ascoltare Locatelli anziché Ricciardi, visto che Locatelli ci ha azzeccato quasi sempre e Ricciardi quasi mai. Ricciardi è uno strano consulente del ministro Speranza che però è sempre contro le scelte del ministro Speranza e del governo di cui fa parte Speranza. Quindi è uno strano caso di consulente che o non viene ascoltato oppure non parla con Speranza, è stranissima la sua posizione. Lui già quando sono state prese le zone gialle, le zone arancione e le zone rosse diceva che bisognava fare il lockdown totale. Non l'hanno fatto e mi pare che i dati abbiano dato ragione a Conte che non lo ha fatto e non a Ricciardi. Poi magari a furia di dire che va tutto male prima o poi una settimana riuscirà pure ad avere ragione lui. Io devo dire che tra i due ho visto azzeccarci di più Locatelli e quindi mi fido di Locatelli. Andiamo al premio. Allora... Allora...